Metti un po' di impasta No! Caccia, caccia, caccia No! Metti, 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 manti Vai, vai Gira, gira Gira una pasta It's me, Savo Buongiorno raga, buongiorno E bentornati a nuovo episodio del Samus Club Stiamo andando a Gatwick Dobbiamo fare due giorni a Cannes E due giorni a Lausanne Per l'evento dei vini con Fabio Accordella Mi sono un sacco di amici Che ho conosciuto allo scorso evento di Bruxelles Non vedo l'ora di arrivare Andiamo Sto guardando anche io un ospite Raga, non sono mai stato a Cannes A Nizza E neanche a Lausanne Quindi non vedo l'ora Raga, siamo arrivati a Cannes Siamo arrivati in albergo Adesso ci cambiamo un po' E andiamo subito all'evento Anzi, forse mangiamo qualcosa prima Stiamo morendo di fan Allora, c'è anche un balcone Allora, siamo arrivati al Pink Ci hanno dato l'accredito per entrare Ciao, come stai? Pensavo che ti stavo riprendendo Come sei elegante Dopo Fabio ci spiega che cos'è il Pink Raga, qua c'è Meija che fa un sacco di quadri fighissimi È un artista spettacolare E ha fatto un ricordo per Fabrizio Miccoli Vediamo un po' Grande Mia Mia Adesso Fabio ci spiega cos'è il Pink Cos'è il Pink? Allora, ora te lo spiego a parole mie Ora te lo faccio spiegare da Gianmarco Dunque, dicevo il Pink È Pink No, dato che è Pink Gianmarco Stiamo iniziando alla grande Spiega Gianmarco cos'è Gianmarco, allora Fabio ha dato una spiegazione tecnica proprio Cos'è il Pink? Allora, Pink è un incontro tra produttori e buyers Che vengono di tutto il mondo Che sono invitati dall'organizzazione E i buyers hanno gli appuntamenti fissati Con tutti i produttori Dunque, non è una fiera dove entrano dei visitatori Non entra nessuno Quindi tutti quelli che sono qua Sono solo importatori O produttori Raga, l'evento Per oggi è finito Ma domani siamo nuovamente lì E poi ci sarà un interessantissimo viaggio in macchina Da Cannes a Lausanne in Svizzera Non sono mai stato in Svizzera Quindi non vedo l'ora di andare Niente, Cannes molto, molto, molto carina Amo, ti piace Cannes? Carina Com'è carina? Raga, fantastico Nostro amico Meja ci ha invitato a casa A mangiaremo tutti qua Siamo in tantissimi Non so cosa ne uscirà Ma sarà interessante Salute, salute Salute Samuele, salute Abbiamo un po' d'olio serio oggi, hai visto? Ragazzi, è trasformato tutto in una festa improvvisata a casa Chef E qual'è il menù? Adesso un aglio, olio e peperoncino Leggeri Ci sono cinque pezzi di peperoncino Leggeri alle 11 di notte Leggeri Leggeri Io, ragazzi, sto bevendo rigorosamente caffè americano Questa si è fatta la suppa C'ha i biscotti dentro Latte e biscotti Latte e biscotti La suppa Alle 11 di notte Non sta ci volete perché non lo capito Alle 11.5 Allora guardate qua Sono le 11 ma non... No, adesso c'è uno spaghetto aglio, olio e peperoncino Per uomini veri 3 chili 3 chili di spaghetti 300 grammi c'è alcuni Ah, mangi solo tu? Io un chilo Proprio un chilo Abbiamo mangiato i... come si chiamano i... Bullocchi Bullocchi Metti un po' di pasta Nooo Nooo Caccia, caccia, caccia Nooo Metti, 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 mangi Vai, mangi Gira, gira Gira la pasta Fabri, butta la pasta Tutta la broca Beh, c'è un problema C'è un problema Stai cercando di... Fabrizio ha calato in una padella che normalmente si mette un chilo, ne ha calato i tre di chili Guardate cosa c'è, fai vedere, fai vedere Guarda qua, in albero Paolo si mangia Paolo Che serata raga Non c'è anche luna di notte Non so che resta, ma comunque Ed è solo il primo giorno Abbiamo altri tre giorni di eventi Wow Grazie 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 Grazie